Eccoci allo spazio della rassegna stampa dove troviamo Andrea Fagioli, direttore di Toscana Oggi, è proprio il tuo giornale il primo che guardiamo insieme. Naturalmente è ancora dedicato alla visita del Papa, ai temi importanti che sono stati trattati e con il piccolo dispiacere della Verna che non ha potuto ricevere il Pontefice. Sì, ovviamente il nostro è un settimanale, quindi ancora puntiamo sull'evento della settimana che è la visita del Papa ad Arezzo e Sansepolcro. Il coraggio di osare, riprendiamo uno dei temi forti del Papa che quando si è rivolto ai giovani ha detto pensate in grande ed abbiate il coraggio di osare, quindi anche un invito ad essere impegnati nel sociale e anche nel politico, quindi un richiamo anche alla politica. Sul fatto di la Verna raccontiamo all'interno di quanto il Papa abbia insistito per andarci ugualmente nonostante il maltempo e raccontiamo anche dei due tentativi che l'elicottero ha fatto da due versanti opposti ma non c'è stata possibilità. Probabilmente tornerà a breve, speriamo. E ora torniamo.